Sindaco, domenica scorsa c'è stata questa manifestazione di rugby presso la cittadella dello sport di San Buceto. Voi non eravate stati avvisati, avvertiti come amministrazione comunale e cosa è accaduto poi? Di fatto è accaduto quello che accade sempre, cioè che il presidente del rugby impegnato in attività politica e anche di presidente del rugby non trova occasione per mettere la mia amministrazione in difficoltà sulle attività che noi svolgiamo sul territorio in tutta la sua interezza. Io ritengo che invece sul rugby noi abbiamo fatto tanto, l'impianto attualmente, sull'impianto c'è una prescrizione della Federazione Italiana Rugby che lui ha autocertificato, potendosi svolgere solo attività di propaganda della stessa. Abbiamo constatato attraverso l'allenatore che invece si svolge un campionato che non potrebbe essere svolto, quindi lui svolge attività illegittima sull'impianto. Noi per il rugby, e questo a questo punto risponde ai rugbybisti che si sono indignati nel nostro atteggiamento, è che per il rugby questa amministrazione, la mia principalmente, ha speso 500 mila euro per un parcheggio, 270 mila euro per gli spogliatoi, 350 mila euro di manto, 40 mila euro per adeguare l'impianto e 61 mila euro di contributi ordinari o straordinari che abbiamo dato alla società per svolgere le attività che fa sul territorio. Quello che è successo è un episodio gravissimo, in quanto quando si organizzano queste manifestazioni bisogna farne comunicazione all'ente comunale, all'ente alla società SGT Sport che gestisce l'impianto e quant'altro. Non vi è stata fatta nessuna comunicazione, io mi trovavo lì per caso perché ero stato invitato ad una premiazione del tennis e quando ho visto quello che stava accadendo mi sono preoccupato subito di intervenire, ho chiamato il presidente dell'SGT Sport e ho messo subito a disposizione uno spogliatoio per i bambini. Mi sono preoccupato per l'incomunità dei bambini ma anche dei genitori perché sono avvenuti anche altri episodi gravi perché è stato aperto un Acrebaus che non ha legibilità, dove sono stati fatti un pranzo per tutti quanti loro, mi sono preoccupato un po' di tutto, però adesso cercheremo di mettere in sicurezza tutto quello che è la struttura perché comunque il campo qualche problemino ce l'ha e quindi li metteremo in sicurezza. Certo che con i rapporti con la FIR regionale avevamo con il buon senso cercato di trovare una soluzione, soluzione che è puntualmente smentita dal presidente del Reggibi che non perde occasione per cercare di mettere in difficoltà gli amministratori comunali di San Giovanni di Atino che già hanno tanti problemi. Al presidente noi rispondiamo con i fatti e con gli atti amministrativi, non rispondendo sui social come fa lui, offendendoci dalla mattina alla sera. Grazie. Grazie.